Un grido, via, poi uno scoppio. È il momento più alto di tensione, i Nox fanno irruzione nel bunker, immobilizzano l'uomo. Per qualche istante si teme il peggio, poi la notizia, nessun ferito. L'uomo, che dalle 17 di ieri si era barricato nell'officina di casa con otto fucili e due pistole, è stato portato in ospedale. Una storia ricostruita con un escalation che parte dalla mattinata di ieri. Lui, di Atri, 47 anni, era stato visto girare per la zona con una pistola nella cinta. Qualcuno aveva allertato le forze dell'ordine. Tornando a casa, che condivideva con i suoi genitori in un casale, su due piani, l'uomo aveva litigato con il padre, poi l'arrivo delle forze dell'ordine, la reazione, violenta e aggressiva, richiesto l'intervento di altre forze, poi le trattative. Polizie e carabinieri cercano di calmarlo, ma niente da fare. Verso mezzanotte decidono di informare il Ministero degli Interni. La situazione non cambia. Nelle prime ore della mattina giungono da Roma le forze speciali, i Nox. Si sentono le grida dell'uomo a centinaia di metri di distanza. Alla trattativa sono presenti il questore di Teramo, il PM Auriemma, il sindaco di Atri e arriva anche l'avvocato del 47enne. Arriva anche il suo medico curante. I familiari sono fuori dietro i nastri di sicurezza. I Nox riescono ad entrare una prima volta, ma non intervengono. Bisogna evitare uno scontro a fuoco. I corpi speciali dopo l'ingresso si accorgono che l'officina dell'uomo è stata trasformata in un bunker. Iniziano a distrarlo da fuori. Lo fanno parlare. L'uomo in 17 ore non sembra mostrare segni di stanchezza o cedimento. A quel punto decidono di intervenire. Utilizzano un cane e un flashbang, un dispositivo per creare un'onda sonora e dare il tempo alle forze speciali insieme al cane di immobilizzarlo. Il cane, Malvin, addistrato per queste difficili operazioni, viene tenuto con il muso coperto. Poi, nel momento di entrare in azione, viene liberato. Nel suo campo visivo entra lì l'obiettivo e poi interviene. Paura in quegli attimi da parte dei familiari, preoccupati dell'incolumità dell'uomo. Il sindaco di Atri è stato presente per tutto il tempo e queste le sue dichiarazioni. Se lui si era barricato a queste armi, ripeto, una persona che conosco personalmente, una persona sempre tranquilla, però evidentemente è successo qualcosa. Però veramente le forze dell'ordine hanno operato in una maniera eccellente. Veramente un plauso a loro perché lo hanno stancato, hanno parlato con loro tutta la notte fino a questa mattina e poi sono intervenuti con grande professionalità e non è successo nulla, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Dopo poche ore viene convocata nella questura di Teramo la conferenza stampa per rendere noti i dettagli dell'operazione e ricostruire i fatti perché quell'uomo detenesse quelle armi, tra le quali una pistola non denunciata e altre armi che invece avevano regolare licenza e se il suo medico curante fosse a conoscenza di qualche disturbo psichico. Sì, purtroppo la situazione era piuttosto pesante ed ha assunto dei contorni di pericolosità piuttosto pesante perché il personaggio, pur non malavitoso, è affetto da una patologia che non gli permetteva di tenere a freno le proprie azioni. L'obiettivo era riuscire a togliere le armi a questo cittadino cercare di portarlo sano e salvo da questo suo mini bunker che si era creato per resistere, come diceva lui, agli attacchi. Ha minacciato di sparare, di colpire qualcuno, di fare del male a qualcuno? Lui soprattutto ha minacciato di colpire se stesso quello lo ha ripetuto più volte, però da come comunicava verbalmente si capiva che non aveva la coscienza di quello che stava facendo cioè rispondeva con volgarità, ma proprio con una violenza verbale dava proprio l'idea dello stato confusionale in cui si trovava questo cittadino. Grazie. 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 Grazie.